oggi instax mini 12 ciao a tutti cari amici miei e benvenuti in questo nuovo video come state spero molto bene non vedevo l'ora di parlarvi di questa macchina fotografica istantanea che è l'ultima uscita di casa fujifilm me l'ha mandata fujifilm che ringrazio per poterla provare in anteprima al momento in cui sto registrando infatti non è ancora possibile avere questa macchina fotografica se non in preordine sarà possibile averla fisicamente dal 16 marzo non so se riuscirò a finire il video prima dell'uscita ufficiale quindi probabilmente lo vedrete poco dopo mi hanno dato anche la possibilità di scegliere il colore e ho chiesto la mint green non so se rende su youtube ma il colore è veramente bello è ovviamente disponibile in altre colorazioni ve le leggo perché altrimenti non ce la farei mai blossom pink clay white lilac purple e pastel blu quindi abbiamo una certa scelta i colori sono pastello la forma la vedete piuttosto gradevole e essendo la instax mini ovviamente funziona con pellicole instax mini questa è la confezione quindi è il formato più piccolo disponibile per le instax a ragazzi vi risparmio un unboxing perché all'interno della confezione oltre alla macchina fotografica c'erano due pile stilo e il laccetto per tenere la macchina fotografica legata al polso andiamo innanzitutto a vederla un po più da vicino e poi guarderemo quali novità ha introdotto fujifilm le dimensioni sono di 10 centimetri per 11 centimetri e mezzo per 6 centimetri di spessore con l'obiettivo chiuso che diventano circa 9 con l'obiettivo alla sua massima estensione per un peso di 377 grammi pellicole inserite batterie incluse per l'utilizzo prolungato con la macchina legata al polso vi dirò che un po il peso si sente però ci siamo portati dietro cose decisamente più pesanti ma utilizzando una tacolla tradizionale non avremo grossi problemi nella confezione ovviamente non la troverete peccato però avrete come vi ho già detto le pile stilo sul frontale subito in alta sinistra troviamo la scritta instax mini 12 al centro troviamo sensori sposimetrici subito a destra il flash il viewfinder il pulsante di scatto e poi al centro troviamo questo obiettivo a 60 mm con tanto di specchietto per farci i selfie ottima scelta quella di mettere i sensori al centro perché quando una persona scatta in orizzontale automaticamente non se ne accorge ma va a coprirli e avremo un'immagine tutta sballata questo succedeva con il modello precedente la instax mini 11 si girava la macchina in orizzontale si mettevano le dita davanti ai sensori sposimetrici e la foto veniva tutta sbagliata come avete visto in questo caso non succede vi sarete accorti che non c'è neanche il pulsante di accensione e ormai era anni che l'entrilever fujifilm abbiamo il pulsante per far uscire l'obiettivo come questo sia il pulsante di accensione che la meccanica per avere il close up sono stati sostituiti da una ghiera basterà ruotarla una volta per accendere la macchina e rivelare l'obiettivo e una seconda volta per entrare in modalità close up in poche parole abbiamo due modalità di messa a fuoco nella prima posizione della ghiera abbiamo una macchina fotografica che ha un range tra infinito e 50 centimetri con una seconda rotazione della ghiera andiamo in modalità close up che ci permetterà di fare scatti tra i 50 e i 30 centimetri un sistema decisamente superiore rispetto alla instax mini 11 in cui bisognava tirare su fisicamente l'obiettivo per andare in modalità close up ma poi era un problema rimetterlo a posto senza dover necessariamente spegnere la macchina fotografica così si tirava fuori poi per poter inserire la lente nel barilotto bisognava tenerlo e premere però a volte non riusciva e quindi bisognava spegnere direttamente la macchina fotografica alla lunga si è dimostrato poco pratico quindi buona anche questa miglioria sulle parti laterali non abbiamo niente se non i fori per poter inserire i nostri laccetti e le nostre tracolle sul lato destro in realtà abbiamo anche lo sportellino che nasconde due batterie stilo anche sulla parte inferiore non c'è nulla e questo mi dispiace perché non abbiamo il foro filettato per poter mettere la macchina su un treppiedi nella parte posteriore abbiamo il viewfinder lo sportellino per inserire le nostre pellicole l'oblò di ispezione per sapere quanti scatti ci sono rimasti e poi l'oblò di ispezione per vedere se abbiamo inserito correttamente la nostra cartuccia sulla parte superiore abbiamo ovviamente la feritoia per far uscire le nostre pellicole me lo stavo quasi per dimenticare ma qui vicino a scritta off abbiamo il led che ci avverte se la macchina fotografica è accesa e anche se il flash è carico allora così di prima chitto direi che le linee morbide della instax mini 11 sono state mantenute in questo modello che tuttavia mi sembra un po una fusione tra la instax mini 9 e la instax mini 11 appunto infatti se vi ricordate sulla mini 9 c'era sia il pulsante per accendere la macchina fotografica che la ghiera per poterci permettere di scegliere alcune aperture del diaframma in più c'era un lettino esterno per poter usare la modalità close up sulla mini 11 rimaneva il pulsante di accensione spariva la ghiera e veniva introdotta la modalità close up sulla mini 12 abbiamo la modalità completamente automatica che c'era sulla instax mini 11 la ghiera della mini 9 e la modalità close up della instax mini 11 ma che si attiva con la ghiera come la instax mini 9 quindi sembra che fujifilm abbia un po attinto dall'esperienza passata per creare questo modello se sia una scelta azzeccata oppure no lo vediamo dopo per quanto riguarda le caratteristiche dovremmo avere un'apertura di diaframma fissa a f 12.7 e una velocità dell'otturatore variabile tra un mezzo secondo e un 250esimo di secondo quindi tutta automatica non dobbiamo fare assolutamente nulla però da quanto ho visto il flash rimane comunque sempre acceso non ci rimane che andare a vedere come ha scattato la macchina fotografica l'ho usata in situazioni sia con un sole molto forte un sole scoccione un sole pieno che in situazioni di luminosità piuttosto scarsa andiamo a vedere i i Grazie a tutti 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 Opinioni? Commenti? Allora, per quanto riguarda le foto con pieno sole Le ho fatte in una piazza con tutto il marmo attorno Quindi non proprio semplicissime Direi che la Fujifilm si è comportata abbastanza bene Perché come avevamo visto nella Mini 11 In queste condizioni di solito tutti i bianchi venivano bruciati Ora non è che in queste foto ha tirato fuori la prestazione della vita Però non se l'è cavata malissimo Considerate che il flash rimane sempre acceso Fotografie in casa non me le sono giocate tantissime Però vediamo che anche questa qui alla fine è venuta piuttosto bene Per quanto riguarda le foto con scarsa luminosità faccio le virgolette perché in realtà il sole c'era ancora Era solamente un po' basso Infatti se guardate queste foto abbiamo Vabbè qua la modalità close up La modalità selfie che ci immerge nel buio più totale Mentre in realtà non era così Qui ho provato a fare una foto mentre saltavo Ovviamente è venuta tutta sfocata perché i tempi sono quelli I tempi di scatto sono quelli lì Anche in questo caso la foto è piuttosto scura E se andiamo a vedere questo scatto che ho fatto alla Jay Quasi tutto il resto è buio Tranne la faccia che ovviamente viene sbomballata dal flash Diventa completamente bianca Questa foto che mi ha fatto la Jay in mezzo al violetto Un po' di sole c'era ancora Mostra i limiti del flash Che si vede che non riesce a coprire più di un metro e mezzo Tre Se siamo più lontani diventa abbastanza inutile Bene invece per la modalità close up Infatti Fujifilm ha un po' risolto il problema del parallasse Quando ci avviciniamo al soggetto Usiamo appunto questa modalità In poche parole prima se non stavi attento Il soggetto veniva tagliato Mentre vedete che il problema non è stato risolto al 100% Ma è stato migliorato Qua ho usato la modalità close up Come riferimento ho usato il cerchiettino del viewfinder Puntando alla mano col fiore E effettivamente Me l'ha quasi centrata Senza dover fare nessuna correzione Questo effettivamente ci semplifica un po' L'uso della macchina E a volte ci salva anche qualche pellicola Allora Quanti soldi dovete sborzare Per avere a casa una Instax Mini 12? Il costo dovrebbe agilarsi intorno agli 89,90 euro Che visto tutti gli aumenti che ci sono stati Ormai purtroppo è in linea Con i prodotti entry level di Fujifilm Critiche Allora Le critiche sono facili Ne abbiamo già parlato ampiamente Mi avete mandato un sacco di messaggi I modelli Così Quelli punta e scatta di Fujifilm Negli anni Non è che Si sono differenziati tantissimo Gli uni dagli altri Soprattutto Molti di voi Lamentano l'estrema semplicità Infatti qua Non possiamo scegliere praticamente niente Però ragazzi Non è un caso È ovvio che Fujifilm Sta puntando a un pubblico O più giovane O comunque Meno esperto Un pubblico Che non vuole perdere troppo tempo in impostazioni Eccetera Ce ne dobbiamo fare tutti una ragione Anche perché Una macchina ottima L'ha tirato fuori da poco Perché la Instax Mini Evo Vi ricordo che è una gran macchina fotografica Però Dato che è ibrida Molti hanno storto il naso Anche a causa del prezzo Però lì si avevano un sacco di controlli Un sacco di filtri Diaframma F2 Insomma Poteva fare un sacco di cose Ora Se Fujifilm Domani ci fa La Instax Mini 13 Con esposimetro Con la scelta del diaframma Con la multiesposizione Con vari controlli Siamo sicuri Che portandola magari a un prezzo di 120-150 euro Venderebbe? Anche a me piacerebbe vederla Ma non sono sicuro Che avrebbe successo Andiamo ai tasti Un pochino più delicati Giustificherei L'acquisto di una Mini 12 Avendo già in casa Una Mini 11 Nonostante le migliorie Direi ancora di no Possiamo farne a meno Tuttavia Se state approcciando Al mondo della fotografia istantanea Non volete sprecare pellicole Non volete scervellarvi In impostazioni Esposizione Tempi di scatto Eccetera Direi che ovviamente Potete passare direttamente Al modello 12 Il fatto è che I pregi E i difetti della macchina Sono gli stessi Perché possono essere visti Sia in modo positivo Che in negativo Per esempio La semplicità di utilizzo La diamo in mano Un bambino di 7 anni Non gli diciamo nulla E sicuramente Porta a casa Qualche foto nitida Ma per un sacco Di altri utenti La semplicità E la mancanza di personalizzazione Sono proprio Un grosso problema Bisognerà vedere Come gestirà Il mercato Fujifilm Infatti Per un certo momento Le due macchine Coesisteranno Avremo la possibilità Di comprarle entrambe Solo che la Istax Mini 11 Ha un costo Di 79,90 Parra 89,90 Quindi La stessa cifra O poco di meno Rispetto alla nuova uscita E ovvio che a conti fatti Tutti punterebbero Sulla nuova Solo il tempo Ci saprà dire Come finirà E voi Che cosa ne pensate Di questa macchina fotografica La comprereste La stavate aspettando Scrivetemelo qua sotto Nei commenti Se siete arrivati A vedere il video Fino a qui Vi do una grande stretta di mano E noi ci vediamo La settimana prossima Per un nuovo video Sempre qui Sul prova cose Ciao 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 Ciao